il gruppo di pavel sta procedendo verso la trichia coscaia detta anche venezia hanno un vantaggio di qualche ora e si muovono in gallerie molto frequentate ma li raggiungerò è il mio dovere è tutta spezzettata big problem e oltretutto siamo tipo in mezzo al cazzo ovunque questa maschera qua si può mettere no ho 40 secondi d'aria perfetto proviamo a iniziare qua ad accendere dai dimmi che funziona ancora dimmi che funsigli funsiglia funsiglia va bene che chifo che chifo che chifo voglio una maschera perchè non posso avere una maschera va beh let's move on bitches dove cavolo siamo cambiamo il filtro ok dio che posto inquietantissimo suppongo che dobbiamo buttare giù anche questo eh si let's go andiamo un po' indietro e prendiamo una bella rincorsa I'm coming bitch oh figa buongiorno 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 bene fratello siamo dei civili ci sono donne e bambini qui vivi e lascia vivere ok ok siamo rifugiati della linea rossa in pratica qui comando io anche se non c'è nessuno da comandare ah sto scendo tutti gli uomini capaci ci hanno preceduti di pochissimo con l'altra carovana pensavano di proteggerci ma sono stati attaccati abbiamo sentito degli spari oh bene ora hanno smesso ma non credo che i nostri siano sopravvissuti quindi non possiamo continuare e se torniamo indietro ci aspetta lo squadrone di esecuzione tu sembri uno che ci sa fare con le armi ci aiuteresti a fare cosa ma sono in pena per i bambini allora adesso che facciamo come viviamo senza di loro potrebbero essere ancora vivi non darli già per morti no dateli per morti state con me signore gli spari erano così forti io voglio quegli occhiali sono fighissimi che si avessero vinto allora perchè non tornano a prenderci potrebbero arrivare presto aspettiamo pensi che tu cos'hai da vendere forse o potrebbe essere andato a peggio no niente di interessante erano delle donne con loro jasha se l'ignoranza è beata tu devi essere l'uomo più felice dell'aterno lol allora aiutiamo i nostri o no? e cosa vuoi che facciamo dai vado io cacca cazzo sono un buon samaritano si alene si alene shatlords un vizio morto lì quindi sono morti tutti quanti qua avanti vero? fantastico oh cazzo aiuto aiuto piantala di dagnarti non arriva nessuno beh fratello fatela tu per primo visto che hai detto cosa? io sto di guardia ok ahhh forse 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 bacca schifosa che c'è? sei troppo nobile per noi eh? no ti prego mi aiuto non capisco dov'è sta tizia trozza chiudi quella cazzo di bocca ehi steso perchè ci metti danno? merda mi sa che qualcosa non va ehi fratello crepate troie ehi ragazzi come va? va tutto bene ehi zia minchia è morta? stas stas perchè ci metti tanto? oh cazzo stas quaccio dove diamo lo sei? siamo di qua non ve preoccupes merda mi state prendendo per il culo? ehi ehi la hello soldato bastardi cos'hai tu? una bastarda va bene io lascerò lì un attimo la mia il mio fedele destriero e siccome me l'avete chiesto facciamo una cosa preferenze eh si ho bisogno di gioco no non di gioco eh video no dove cavolo? dov'è il? io l'ho alzato da qua cazzo ci metti allora preferenze allora ho bisogno di gioco per forza no? gamma si eccolo qua lo alziamo ancora perchè voi non vedete un cavolo yeah ok boom ciao muove il culo gli altri saranno già a casa mezzi ubriati io leverei questa ovviamente si qua sono ancora invisibile quindi splat splat yeah questo è come facciamo dai artion per una volta mi hanno detto che il fucile a canne mozza è tipo strafigo quindi possiamo provare a prenderlo dai va bene ah pure che bastardi uomo anche tu o una troia che bastardi non fidermi ti prego uomo o troia troia ragazzi lo stronzo è qui ciao lo stronzo chi? dai slegami ti prego non ce la faccio più sta buono lì un attimo è meglio per te allora povero cristo tu sei una troia vero? quindi aspetta uuuu soldi ok arrivo prima vi saccheggio no dai ah si li hanno presi tutti i vivi i bambini le donne oh cazzo pirati quindi beh sposta il carrello così puoi proseguire grazie mille sposta il tuo cazzo di carrello dai se li segui attento alla galleria tecnica ho sentito dire ai banditi che c'è una trappola va bene galleria tecnica quindi è tecnicamente una galleria decurde decurde allora dove devo andare questo mi sa che devo girarlo l'altra parte forse mhm 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 ok di qua giro si quindi giro in automatico yes nice poi ci muoviamo di qua ciao caddo Poi su di qua E devo stare attento Alla galleria tecnica All right Ah gesù Altre morti Quella è una maschera anti gas Che potrebbe servirmi Perché la mia è mezza rotta All right Yes I think so Lì c'è la radiazione Questa è troppo rotta Per essere utile a nessuno Fantastico Spongo che mi toccherà mettermi sulla maschera Let's move Artyom Let's move Verso i pirati Artyom Yes Indietro Che non si riesce a scendere Di là Tutto un piccolo bug Allora Un po' di qua cosa c'è? Quello non mi piace Cosa? Ok Un cesso Un cesso Con dei filtri È un nuovo appunto Lì c'è una maschera Ok E un tizio va al cesso Cazzo Se la stanno prendendo coppia Dove cazzo è andato a controllare questo? Eh qua Ok Benissimo Ok Maschera nuova per me Ora suppongo che se lo faccio passare di qua Posso ucciderlo con un coltello Canna di te Dai Vieni da paparena Vieni da papartium Sono i passi più strani del mondo Oh cazzo Dite che ho fatto un po' di casino Pensavo di avere Questi Vabbè Andiamo alla vecchia maniera Cazzo sono tanti Gli ho tirato una granata E ora che facciamo? Lo cerchiamo Il degno che non sei altro Yup Sembra non ci sia niente Oh no Ok Non mi fare vedere niente Tu grazie Non sei Il mio tipo Ciao caro Ok That's how we do it Nicely done Oh mio dio Adoro quelli che parlano tipo Piagnucolosi così Dobbiamo fargliela pagare a quello stronzo Non va bene Non va bene Dove essere un pirata Dove essere una persona figa E per cosa? Su via Dai ragazzi Siete uomini Pompiamo le munizioni Auto munizioni Quindi il tizio ha detto che qua C'è una Cosa Mi tipo alzo questo Ok Apro questo Prendo questi Yeah Sound good Continuiamo A cerchere in giro Quindi qua ci dovrebbe essere una trappola Suppongo Credo Non lo so L'ha detto il tizio Però non so neanche se questa è la galleria tecnica Qua dentro Oh my god C'è un bagno C'è un bagno Lo sapevo I bagni sono ogni presenti Allora Più avanti di qua Nada 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 Ok Quindi torniamo indietro Andiamo a controllare l'ultimo vagone di qua Perché non l'ho controllato bene E' bello fare un sacco di casino Sapendo che ve li ho uccisi tutti ormai Sto facendo Mi hanno detto il finale brutto Da quello che ho capito Però Questi erano cattivi e meritavano di morire Quindi Non rompete Ho cercato di assassinare un tizio con una granata Solo io potevo farlo comunque Ne sono arci sicuro Let's go A parte che io ho ancora indresso la maschera No non ce l'ho Niente Quindi sono le 5.45 adesso E' una bellissima giornata di sole Qua a Milano E io sono dentro a giocare a videogiochi Because I'm a nerd So fuck it Questa mi sembra la trappola Wow Ok Ah bene Fantastico Splattete Splattete Ah che soddisfazione la pistola silenziata Signore lei ha qualcosa? Si che ha qualcosa Mi sembra giusto Allora Perquisiamo questi Non hanno nulla Ok Perquisiamo questo tizio qua E poi torniamo indietro Per vederli dentro Allora Che abbiamo questo Yeah Poi saliamo su di qua Ci sarà qualcuno L'ho visti L'ho visti L'ho visti da qualche parte Erano soldi Cos'è sta musica? Oh no C'erano dei soldi qua Non mi fottete Prima c'erano dei soldi 10 soldi 10 munizioni Di grado Metal Terra Quindi Andiamo avanti E accucciamoci Ah Quindi questo porta direttamente Nel loro coco Fantastico Di qua si va alla Non lo so E di qua alla Non lo so Fantastico Che bello avere i cartelli in rosso Che schifo Scusi Ho sentito dei rumori strani Ma soprattutto Io dovevo andare Ciao